Verità o falsità? Il trim è quell'opzione che fa suonare il nostro SSD come fosse un campanello? Trim trim! L'indicizzazione è quella cosa sbagliata che facciamo quando indichiamo qualcuno? L'ibernazione è quella comoda funzione che possiamo attivare quando vogliamo utilizzare il nostro computer nei mesi caldi caldi? Adesso potresti pensare, ma cosa me ne importa di sapere queste cose? Lo dice la sigla stessa, SSD, sono solo dati. Sai che c'è? Hai ragione, d'altronde i dati sono i tuoi, mica i nostri. Non è vero, è proprio perché mi preoccupo dei vostri dati che sto facendo questo video. D'altronde quante domande mi avete fatto in proposito, siate obiettivi. Quante volte vi ho risposto, ma soprattutto quante volte ho risposto alle stesse domande. È anche giusto perché non avete né la voglia, ma soprattutto il tempo di andarvi a leggere tutti i commenti. E per me diventa una ripetizione continua su concetti che già ho esposto. Quindi, un po' per mia comodità, indiscutibilmente, ma soprattutto anche per la vostra, sto facendo questo tutorial. Proprio per far sì che se dovessero rinascere alcune domande, eventualmente vi rimanderò al link di questo video, dove tratteremo alcune situazioni, nozioni e funzioni fondamentali per l'uso dell'SSD corretto. Quindi, quale sono queste funzioni? Ma che domande mi fate? Abbiate pazienza. Visto che sto facendo il tutorial, è perché vi voglio rispondere, no? iCare Phone Transfer, la soluzione migliore per il backup, il trasferimento ed il ripristino dati per Whatsapp e Whatsapp Business. Il trasferimento può avvenire fra iPhone e Android e viceversa, o fra le stesse piattaforme. Basta un semplice click per ottenere il backup direttamente sul vostro PC Windows o Mac. Per compiere il trasferimento dovrete semplicemente scaricare il programma, collegare i vostri dispositivi al PC, verificare il dispositivo di destinazione ed avviare il procedimento. Una volta concluso, avrete duplicato tutti i vostri dati Whatsapp sull'altro dispositivo. Una delle domande che mi avete fatto di più in assoluto riguarda questo benedetto comando Trim. Cosa serve? A cosa va a fare questo comando Trim? Materialmente il comando Trim è specifico, possiamo dire, per l'utilizzo del nostro SSD. Perché ragazzi? Perché il comando Trim tramite il sistema va a individuare i blocchi non più esistenti come dati all'interno del nostro SSD e li va a eliminare. Cosa comporta questo? Che il nostro sistema non andrà continuamente a leggere dei blocchi vuoti e il nostro SSD avrà un leggero aumento a livello di prestazioni e anche un leggerissimo aumento a livello di vita, anche se questo non è un concetto fondamentale, ma lo vediamo dopo, fra un attimo. Quindi ragazzi, qual è il discorso? Lo devo attivare o non lo devo attivare questo comando Trim? Partite dal presupposto che il comando Trim, nelle versioni, specialmente le ultime di Windows, viene attivato di default. Quindi normalmente il comando Trim è meglio tenerlo attivato, ma per esempio aveste bisogno, perché utilizzate, non so, un server o un computer in particolare dove avete bisogno spesso di recuperare o correte il rischio di perdere i vostri dati, in quel caso il comando Trim è meglio tenerlo disattivato, perché altrimenti i software di recupero dati avrebbero serissime difficoltà ad andare a recuperare i vostri dati, perché materialmente questi blocchi dove avete cancellato i file vengono eliminati. Quindi la domanda, ragazzi, nasce spontanea. Ma se Windows va automaticamente a riconoscere un SSD, perché Windows lo riconosce nelle ultime versioni, un hard disk SSD, normalmente il nostro Trim dovrebbe essere sempre attivato. Quindi a noi cosa ci importa di saperlo o meno? Non è sempre vero questo, ragazzi, perché per esempio se nello stesso PC dove avevate un hard disk meccanico voi andate a sostituire un SSD, in quel caso può succedere che automaticamente il Trim non venga avviato. Quindi come fate a verificare se è attivo o meno? Esistono dei software come per esempio i SAS Partition Master che va automaticamente a attivare o a disattivare il vostro Trim o in modo più semplice, in modo che potete semplicemente lanciare il comando che vi vado a far vedere, ragazzi. Eccolo qua. Voi, ve l'ho scritto per vostra comodità, vedete? Basta che al Command Prompt, sempre lanciato in modalità amministratore, mi raccomando, scrivete questo comando, lo vedete? FSutil Behavior Query Disable Delete Notify. Questo è esattamente che vedete. Una volta che avete scritto questo comando dovete semplicemente dare invio. Vi apparirà questa schermata qua, lo vedete? Con la prima riga che sarà NTFS Disable Delete Notify uguale 0, nel caso in cui abbiate Windows 11 vi apparirà anche la seconda riga RFS che riguarda l'evoluzione del NTFS che sarebbe il Resilient File System. Quindi vi apparirà anche questa riga sotto Disable Delete Notify uguale 0. Non vi fate ingazznare, ragazzi, dal fatto che vedete uno 0 e vedete scritto disabilitato. Fate caso al comando. Il comando dice Disable Delete Notify, quindi disabilita la notifica. Quindi noi dovremmo avere 0, questa disabilitazione non deve essere attiva. Ecco perché con 0 vuol dire che il vostro trim è attivato. Quindi per avere il vostro trim attivato dovete vedere questa riga esattamente con lo 0 e con scritto disabilitato. Ma può succedere, come vi ho detto, che eventualmente non abbiate il trim abilitato. Come lo abilitate? Con quest'altra riga che vi ho messo sotto, ragazzi. F-Sutil Behavior, dovete mettere set, lo vedete ragazzi, quindi andate materialmente ad attivare, a imporre il comando, Disable Delete Notify 0. Una volta che darete invio, se il vostro trim non era attivato, voi con questo comando lo attivate. Discorso inverso, lo volete disattivare per uno dei motivi che vi ho detto prima, ma in quel caso al posto dello 0 semplicemente dovrete mettere 1 e in quel caso voi andrete a disattivare il vostro trim. Ok ragazzi, è 1. Un'altra domanda frequentissima che mi avrete fatto è a proposito della defragmentazione. Dici, ma che cosa dobbiamo fare con questa defragmentazione? La dobbiamo disattivare? Ragazzi, partite dal presupposto che proprio per un discorso di costruzione, il nostro SSD, sul nostro SSD anzi, avviene una lettura di tipo logico, non meccanico. Quindi in realtà la defragmentazione è assolutamente inutile, ma è anche assolutamente inutile disattivarla. In realtà, come vi ho detto prima, il nostro Windows riconosce automaticamente un SSD installato, quindi automaticamente trasforma la defragmentazione in un'ottimizzazione che è tutta un'altra cosa, come vi ho scritto nei commenti. In pratica con l'ottimizzazione Windows va a cadenza periodica a forzare il comando trim che vi ho appena spiegato. Quindi naturalmente lui va a eliminare questi blocchi ormai inutili, vuoti, dalla lettura. Quindi lui ottimizza la prestazione. Non c'è più bisogno della defragmentazione. Dove ve ne accorgete questo, ragazzi? Se voi andate nel campo di ricerca e scrivete defragmentazione, automaticamente, lo sapete, vi appare il comando di Windows defragmenta unità. Se passiamo da quest'altra parte, ragazzi, vedete che in questo caso, ve lo faccio leggere bene, qui non si parla più di defragmentazione, ma come vedete si parla di ottimizzazione pianificata. Lo vedete? È attivata in questo caso e ha una frequenza settimanale. Quindi lui automaticamente, vedete, unità SSD, mi dice zero giorni dall'ultima riottimizzazione. Si vede che l'ha appena fatta. Ma in questo caso io non defragmento, non ho bisogno di defragmentare. È Windows stesso che la defragmentazione me la trasforma in ottimizzazione, che in quel caso non va a creare problemi sul nostro SSD. Tant'è vero che se dovessimo andare qua, vedete, su modifica impostazioni, vedete che qui potremmo cliccare qua su questo flag e levare l'eventuale pianificazione. Ma come vi ho già detto, è una cosa assolutamente inutile perché non si parla più di defragmentazioni, ma automaticamente di ottimizzazione, che è comunque un qualcosa di assolutamente non distruttivo per il nostro SSD e non ci comporta nessuna perdita nella durata di vita del nostro SSD. Eh? Basta poco? Che c'è po'? Altro quesito, un pelino più particolare, riguarda il file di paging. Mi avete domandato, ma il file di paging con un SSD, dobbiamo disattivarlo? Mi spiego per chi non lo sa. Il file di paging, ho detto anche file di paginazione, non è altro che la gestione da parte del sistema operativo della memoria virtuale. Cosa fa il file di paging? Materialmente va a liberare la RAM. Il concetto è semplice, ragazzi. Nel caso soprattutto noi avessimo poca RAM, in caso di particolari operazioni, quindi operazioni che vanno a saturare la RAM, il tutto potrebbe rallentare il nostro sistema. Quindi Windows cosa fa? Crea, ha creato la memoria virtuale, che quindi riguarda il file di paging, dove parte delle operazioni presenti in RAM vengono spostate ed eseguite sul nostro hard disk. La domanda nasce spontanea, come dico sempre. Quindi in questo caso andrebbe a scrivere sul nostro SSD il file di paging, se noi abbiamo l'SSD. E il fatto di numerose scritture, come sappiamo, potrebbe preoccuparci. Vi dico subito, ragazzi, che questo è uno dei concetti da sfatare. Nel senso, è assolutamente, o almeno comunque, in parte sbagliato. Perché? Per due semplici e importanti motivi. Tenete presente che, nelle ultime costruzioni, nelle ultime produzioni, gli SSD non sono come quelli vecchi. Ormai sono ottimizzati e costruiti in maniera tale che, vi assicuro, potete trovarlo dovunque, su Google, fate una ricerca, ormai il fatto delle scritture sull'SSD non è più concetto fondamentale che riguarda la durata. Vi assicuro che la cosa è molto meno rilevante. Ma, soprattutto, disattivare il file di paging vi posso assicurare che, nel caso di avvio o riavvio di un PC, potrebbe creare seri problemi e quindi mandare la famosa maschera blu. Quindi, creare problemi di riavvio o di funzionalità del nostro sistema. Quindi, quello che vi consiglio, assolutamente, non andate a toccare la memoria virtuale. Lasciatela esattamente così come è impostata. Quindi, il file di paging non va disabilitato. Per chi non avesse capito a cosa mi sto riferendo, ragazzi, se ci spostiamo di qua, basta andare ad aprire le nostre impostazioni, spostarci, come vedete qui, in sistema. Una volta in sistema, andiamo in fondo verso informazioni, ragazzi, e una volta su informazioni, ci spostiamo qua sulla destra, vedete, impostazioni di sistema avanzate. Automaticamente, ve la sposto subito di qua, vi apparirà questa finestra che dovreste conoscere. La vedete, ragazzi? Se guardate qua, vi faccio lo zoom, vedete che c'è scritto prestazioni, effetti visivi, pianificazione, processori, utilizzo memoria e memoria virtuale. Lo vedete? Se io vado a cliccare su impostazioni e mi sposto di conseguenza qui su avanzate, come potete vedere, eccolo qua, ragazzi, vedete? Memoria virtuale. Questa viene automaticamente abilitata senza che voi dobbiate fare nulla direttamente da Windows. Andando a cliccare su cambia, noi possiamo intervenire sulla capacità che automaticamente viene destinata. Questo tanto per vostra conoscenza, ma per farvi capire a che cosa mi riferivo. Il succo è, non c'è assolutamente bisogno di disattivare il file di Paging e di conseguenza la gestione nella memoria virtuale. Eh? Molto velocemente in questo caso, perché la mia modestissima opinione al riguardo è assolutamente categorica. Come vi ho più volte scritto nei commenti, mi avete chiesto, ma Alessandro, l'indicizzazione di Windows la posso disattivare? Tanto i miei hard disk sono già SSD e quindi notevolmente veloci. Ragazzi, per chi non lo sapesse, l'indicizzazione è quella particolare funzione di Windows che ci permette di ricercare più velocemente i nostri file. Molti di voi dicono e sostengono che disattivare l'indicizzazione sia una cosa fattibile, perché tanto l'SSD comunque è già molto veloce di per sé, perché devo comunque mantenere aperta questa funzione che comunque sovrascrive, scrive più volte sul nostro SSD per rimanere attivo e per permetterci una ricerca più veloce. Come vi ho già risposto, per quanto mi riguarda, sempre modestissima opinione, è assolutamente sbagliato, ragazzi, per due semplici motivi. Il primo ve l'ho appena detto, i nuovi SSD non hanno più la prerogativa fondamentale della quale dobbiamo preoccuparci per il fatto del numero di scritture in funzione della durata. Non è più così, ragazzi, ma soprattutto, come già vi ho detto più volte, disattivare l'indicizzazione. In alcune situazioni vi assicuro che comporta il fatto che i file proprio non vengano trovati. Quindi, verificate su Google, ragazzi, non vi sto dicendo stupidaggini. Quindi, è sconsigliabile assolutamente levare il flag dall'indicizzazione. Cosa vuol dire, ragazzi? Guardate, se andiamo sul nostro file explorer e ci spostiamo sul nostro hard disk principale, quindi, in questo caso, l'hard disk C, e clicchiamo con il destro, andiamo a fare il click su proprietà, ci appare questa finestra che ormai dovreste conoscere bene. Guardate, qui in basso, ragazzi, vedete? Consenti l'indicizzazione del contenuto e delle proprietà dei file di questa unità. Ecco, ripeto, secondo la mia opinione, questo flag assolutamente deve rimanere, quindi, l'indicizzazione deve essere attiva. Se non volete incorrere in alcuni problemi, appunto, di ricerca, non trovereste alcuni file. Modestissima opinione. Devo dire che un'altra domanda che mi è stata fatta molto spesso, ragazzi, soprattutto da coloro che utilizzano Privazer, riguarda la funzione Prefetch. Che cos'è questa cosa, ragazzi? È una funzione particolare che tiene sempre sotto controllo la vostra RAM, perché va a vedere le app che vengono utilizzate maggiormente da voi e di conseguenza le va a precaricare in RAM, in modo che il loro accesso, il loro utilizzo sia molto più veloce. Ma chi utilizza Privazer ha notato che questo Prefetch esiste tra le funzioni di Privazer che vengono poi cancellate. Quindi Privazer interviene ogni volta per andare a cancellare, appunto, quello che il Prefetch ha creato. Molti di voi hanno anche notato Alessandro, ma abbiamo anche visto che esiste Superfetch. Ma è la stessa cosa? Ragazzi, il Superfetch è l'evoluzione del Prefetch. Praticamente la sua evoluzione. Il succo qual è? Ad oggi Windows 8.1 e Windows 10 vanno automaticamente a disattivare il Prefetch. Ci siete ragazzi? Perché è stato provato che alla fine è inutile, addirittura va a rallentare l'abbio del sistema. Ma nel caso in cui voi abbiate, per esempio, un hard disk meccanico come nel mio caso, c'è la possibilità che il Prefetch sia attivato. Come lo verificate? Nel caso abbiate un hard disk meccanico lasciatelo attivato ragazzi, perché comunque ha la sua utilità. Ma comunque vogliate verificare se avete questo Prefetch assolutamente inutile, attivo o non attivo e vogliate disattivarlo, dovete fare questo ragazzi, guardate, dovete innanzitutto aprire il RegEdit. Voi lo sapete ragazzi, basta andare sul campo di ricerca e scrivere RegEdit. Ci siamo? Una volta che avete aperto il RegEdit dovrete seguire il percorso che vi faccio vedere adesso con attenzione. I Key Local Machine, lo vedete? Dopo I Key Local Machine andate a cliccare su System. Dopo System dovete cliccare su Current Control Set. Lo vedete ragazzi? Questo. Appena andrete a cliccare dovete cliccare sulla prima voce che è Control. Lo vedete? Dopodiché bisogna fare uno scroll verso il basso fino a che non troverete la voce eccola qui Session Manager. Ci siete ragazzi? Cercherò comunque magari di scrivervi il percorso completo. Session Manager. Scendete verso il basso fino a trovare Memory Management. Lo vedete? Finalmente avrete la voce che ci interessa che è questa Prefetch Parameters. Lo vedete ragazzi? Ok. Una volta cliccata su questa voce qua a destra vi appariranno le cose che ci interessano nella fattispecie a noi interessa Enable Prefetcher. Lo vedete ragazzi? In questo caso io avendo un hard disk meccanico vedete ho un valore 3. Lo vedete ragazzi? Se io ci clicco due volte su questa voce mi appare la finestra che vi ho fatto vedere anche altre volte dove come potete vedere il valore che io ho è 3 perché materialmente il valore Prefetch ha due modalità di attivazioni. avendo io il valore 3 vuol dire che ho tutte e due le modalità attive quindi i valori che possiamo impostare saranno 0, 1, 2 e 3 la modalità 1 attiva solo la modalità 1 la modalità 2 come potete immaginare attiva solo la modalità 2 la modalità 3 che ho io attiva sia la modalità 1 sia la modalità 2 non entro nel particolare ragazzi lo potete trovare su Google ma nel caso in cui lo abbiate attivato non abbiate harddisk meccanici dovete solo qui al posto del 3 mettere il valore 0 una volta che metterete 0 potete fare ok e semplicemente uscire con file esci dal vostro registro avrete disattivato il vostro Prefetch ok ragazzi in questo caso affrontiamo due quesiti perché il primo è veramente molto veloce ragazzi è la domanda che mi avete fatto diverse volte che riguarda l'ibernazione mi avete detto ma sarà il caso visto che un ssd e visto che l'ibernazione va a scrivere sul nostro ssd magari disattivarla ragazzi come vi ho risposto e qui ve lo confermo proprio in funzione del fatto che come ormai avrete capito i nuovi ssd non hanno più il problema dell'eccesso di scrittura o almeno è stato notevolmente risolto questo problema l'ibernazione ragazzi in particolari casi come specialmente nel caso dell'utilizzo di un portatile di un notebook dove l'ibernazione va a risparmiare veramente una certa quantità di energia secondo il mio modesto parere non è il caso di disattivarla poi ripeto non è una funzione fondamentale nel caso del portatile assolutamente io vi consiglierei di lasciarla attivata nel caso l'utilizziate il portatile con la corrente o abbiate un computer fisso probabilmente come nel mio caso per esempio potete disattivarla io l'ho disattivata velocissimamente non vi ricordaste come si fa ragazzi e voleste eventualmente comunque disattivarla basta andare in sistema e sicurezza come vedete qui del nostro pannello di controllo una volta in sistema e sicurezza dovete andare in opzioni risparmio energia al simbolo della batteria una volta dentro vi dovete spostare qua sulla destra dove vedete specifica cosa avviene quando si preme il puzzante di alimentazione lo vedete cliccando qua voi adesso non lo vedete per un motivo che vi ho spiegato in un altro tutorial eventualmente vi metto qua il link del motivo per il quale non si veda ma qua sotto dovreste vedere la scritta ibernazione con il flag basta cliccare qui su modifica le impostazioni attualmente non disponibili per rendere cliccabili queste impostazioni se vedete ibernazione e volete eliminare l'ibernazione basta allevare il flag tutto qui ragazzi non dovete fare nient'altro cosa invece molto più importante riguarda l'ottimizzazione vera e propria dell'SSD in funzione dell'allineamento della partizione più comunemente ed erroneamente chiamato allineamento della testina voi sapete che su un SSD l'allineamento della testina non è reale non esiste perché in realtà non c'è una testina giusto ragazzi però questo allineamento della partizione cosa va a fare in pratica cos'è questo allineamento della testina il concetto cosa vuole dire perché va a migliorare il nostro SSD e lo ottimizza fate un esempio ragazzi vi ricordate i vecchi nastri di una volta è come se io sul nastro invece di andare a registrare dall'inizio del nastro partissi leggermente più avanti ci siamo ragazzi quindi per scrivere tutto quello che devo scrivere dovrei arrivare alla fine del mio nastro e proseguire sul retro del mio nastro la registrazione il che comporterebbe che cosa ragazzi una sorta di rallentamento nella lettura perché io una volta arrivata alla fine del nastro dovrei comunque rigirare e questo comporterebbe un rallentamento la stessa situazione lo stesso problema avviene nel caso in cui la nostra il nostro SSD non si è allineato cioè cosa vuol dire il nostro SSD ogni SSD viene diviso per settori e ogni volta che io dovrò andare a scrivere una pagina realmente questa pagina deve essere una pagina fisica che deve cominciare proprio dall'inizio del settore vi dico subito che questa è una funzione che viene attivata normalmente e automaticamente direttamente da Windows ma c'è un ma ragazzi nel caso per esempio una possibilità abbiate fatto una clonazione da un hard disk meccanico a un SSD c'è il rischio che appunto non ci sia questo allineamento e quindi l'SSD clonato non sia al massimo della prestazione non sia ottimizzato spero di avervi fatto capire il concetto come lo potete verificare ragazzi guardate dovete semplicemente passiamo da questa parte andare a premere i tasti Windows più R sulla vostra tastiera quindi Windows più R vi apparirà la finestra quella di esegui che vi ho portato adesso da questa parte e come vedete ragazzi dovete andare a scrivere la dicitura la scritta il comando per essere più precisi msinfo32 a questo punto non dovete fare altro che ok appena farete ok ragazzi ve la porto immediatamente da questa parte vi apparirà la finestra che ormai credo conosciate bene che è quella che riguarda le nostre informazioni di sistema eccola qua ragazzi la vedete bene ve l'ho sistemata arrivati qui ragazzi qui sulla sinistra dovrete andare su componenti vi spostate fino a che non trovate archiviazione eccolo vi cliccate su archiviazione e arrivate sulla dicitura dischi lo vedete ragazzi dischi bene una volta su dischi vi spostate qua a destra e dovete andare a identificare la vostra unità ssd vedete qui ho western digital questo è l'hard disk meccanico ma se faccio uno scroll ragazzi come potete vedere guardate ecco qui la mia unità disco che è il samsung ssd 860 qvo da un terabyte questo è il mio ssd semplicemente scendete in basso fino a che non troverete questa voce qua ragazzi offset avvio partizione lo vedete ragazzi vedete questa voce ha un valore nel mio caso è 1048.576 lo vedete questo è un valore fondamentale perché ragazzi perché se questo valore che voi vedrete sul vostro offset quindi del vostro ssd lo andate a dividere per 4096 vi deve venire un numero senza virgola in quel caso vuol dire che la vostra partizione è assolutamente allineata e il vostro ssd è al massimo delle prestazioni ci siamo ve lo spiego con precisione vedete io in questo caso ho 1048.576 ci siamo lo vado a riscrivere qua 1048.576 lo vedete ho riscritto sulla mia calcolatrice esattamente il valore che mi riporta il mio valore di offset dell'avvio di partizione ok a questo punto vado a cliccare su dividi e andrò a dividerlo per 4096 come vi ho appena detto se vado a fare uguale ragazzi come vedete mi appare 256 se vi appare perché il valore di offset logicamente potrà cambiare in funzione anche della capacità dell'hard disk se il valore che vi esce è un valore senza virgola vuol dire che il vostro ssd è perfettamente allineato altrimenti vi uscisse una virgola vuol dire che avete la testina tra virgolette non esiste ma avete la partizione che non è allineata come potete fare per risolvere il modo più semplice ragazzi è utilizzare quei software che utilizzano questa funzione di come possiamo dire aggiustamento in modalità gratuita tipo come vi ho detto i sas partition master o mini tool partition per esempio sono due programmi che offrono questa funzione in modalità gratuita troverete all'interno di questi programmi semplicemente cliccando una funzione che dice allineamento della partizione e quindi ottimizzazione del vostro ssd tutto là facendo questo voi avrete allineato e migliorato le prestazioni del vostro ssd e concludiamo con le ultime due domande che sono tra quelle veramente che mi avete fatto di più in assoluto innanzitutto ribadiamo una cosa importante perché qui non c'è da fare nessun tutorial è assolutamente certo e quindi ve lo riconfermo sugli ssd andare a sfruttare tutta completamente tutta la memoria disponibile comunque crea una sorta di impedimento di rallentamento quindi è preferibile non indispensabile ma è preferibile non riempire totalmente completamente fino proprio al completamento totale il nostro ssd quello dove sia possibile farlo ma la cosa più importante che mi avete domandato è quello è un classico dice Alessandro ma com'è che il mio hard disk per esempio è da un terabyte ma poi quando lo vado ad agganciare e entro dentro la mia gestione disco vedo 931 960 gigabyte gli altri che fine hanno fatto? allora ragazzi considerate che questo è un problema perché il problema non è dovuto all'over provisioning cosa sarebbe ragazzi? è una funzione particolare viene attivata in automatica e viene poi gestita direttamente messa e strutturata direttamente dal produttore e poi gestita dal sistema l'over provisioning è una parte della memoria del nostro ssd che viene riservata per il controller che starà all'interno del nostro computer che poi gestirà il nostro ssd quindi quella parte di memoria che non vedete che non vi risulta è gestita è utilizzata è riservata all'over provisioning quindi è una cosa assolutamente normale considerate questo ragazzi che voleste passiamo da quest'altra parte rendervi conto di quello che vi sto dicendo quindi vedete qui ho aperto la gestione disco e come potete vedere appunto risultano anche a me 931,51 giga ragazzi è la cosa più normale del mondo ma se io adesso voglio andare qua ragazzi eccolo qua ragazzi ho aperto praticamente il sito della Kingston tanto per aprirne uno dove come potete vedere parla di over provisioning delle unità ssd guardate vedete c'è una capacità fisica reale una capacità che viene rilevata dall'utente che è quella che rileviamo noi su quale mi avete fatto la domanda e la percentuale in capacità che viene praticamente riservata per l'over provisioning per esempio basta arrivare qua su 1024 lo vedete ragazzi praticamente questo 1024 se vedete lui la capacità utente automaticamente la porta a 960 giga o giù di lì più o meno ragazzi quindi un 7% della memoria del nostro hard disk viene automaticamente riservata per l'over provisioning questo per vostra tranquillità in maniera tale che non vi preoccupiate l'ultima cosa ragazzi che vi voglio assolutamente dire che ho ripetuto veramente uno sproposito di volte è dove possibile dove vi sentiate di farlo vi assicuro una cosa assolutamente semplicissima mi raccomando tenete d'occhio il firmware del vostro ssd quindi provvedete all'aggiornamento del firmware ragazzi è una cosa semplicissima perché normalmente viene effettuato grazie a dei software forniti dal produttore del vostro ssd l'esempio classico qual è ragazzi ve lo faccio vedere ritorniamo da questa parte io per esempio ho un ssd guardate torno indietro qua se non sbaglio eccolo qua vedete guardate io ho il mio ssd è un samsung 860 qv da un terabyte lo vedete io semplicemente cosa ho fatto ho digitato il nome del mio ssd e ho messo alla fine la dicitura firmware che è quella che voglio appunto aggiornare per migliorare le prestazioni del mio ssd perché qui parliamo di miglioramento delle prestazioni in alcuni casi relativo ma in altri casi invece c'è un reale miglioramento cosa succede mi sposto all'interno della prima dicitura entro all'interno del samsung eccolo qua sata qv 860 dove come potete vedere nel caso del mio samsung esistono degli applicativi forniti dalla samsung che mi permetteranno di aggiornare il firmware io lo potrò fare voi andatevi a informare sul vostro hard disk ma la samsung fornisce per esempio magician software lo vedete questo magician software io sono entrato all'interno è quest'altra schermata praticamente io lo devo andare semplicemente a scaricare ed installare sul mio computer una volta che l'avrò installato vedete io basta che faccio uno scroll ecco qua che mi appare la possibilità di andarmi a scaricare il firmware più aggiornato per il mio ssd tant'è vero che se vado a fare il clic sulla freccina e vado a trovare bene vedete eccolo qua sata ssd 860 qvo firmware ve lo faccio vedere bene lo vedete eccolo qui ragazzi quindi io non dovrò fare altro che andare qui in download e scaricarmi il firmware una volta scaricato grazie al software magician senza che io mi preoccupi di nulla dovrò semplicemente lanciarlo e puntare il file appena scaricato del firmware più aggiornato il procedimento è lo stesso per tutti gli ssd e normalmente viene spiegato è una cosa che vi consiglio di perderci un pelino di tempo ma alla fine vi assicuro che i vantaggi saranno sicuramente indiscutibili ragazzi spero abbiate apprezzato perché non avete idea che faticaccia andarsi a cercare tutte le domande quelle più ripetute più frequenti per poi farvi questo tutorial sì voglio che mi dite che sono stato bravo quanto mi piace comunque ragazzi spero veramente che abbiate gradito come al solito un gigantesco abbraccione e il grazie di cuore lo sapete non è di brazzi è dovuto un abbraccione ancora e ci vediamo al prossimo tutorial buona serata a tutti grazie a tutti